Ciac, ed ecco a voi Silvio Wolf che in questa sua miss così papale, bianca eterea e mistica, ha accettato e sono molto contento di condividere, dice non le risposte ma i dubbi, le domande che comunque essendo sollecitanti in qualche maniera ti rispondono perché anziché lasciarti nel silenzio ti muovono delle voci. Silvio, chi lo conosce è una persona veramente eccezionale, fa eccezione per tantissime cose e sentendolo parlare lo sentirete. Uomo completo e artista con tanta forza interna da sapersi e rimettere in gioco completamente tanto quanto occorre per fare il salto e indagarsi e indagare su quello che viviamo e siamo e sentiamo di essere e vorremmo che gli altri sentissero. Silvio, ti passo la parola. Iniziamo. Ok, intanto grazie dell'invito Roberto che è arrivato molto inaspettato perché ci conosciamo dalla didattica, dalla scuola. Io non percorro più le strade della professione da un sacco di anni però mi fa molto piacere condividere queste idee, questa esperienza. E comunque tutto non capita a caso perché io ho appena fatto un esame a distanza di uno studente che doveva recuperare un esame perso e parlando con lui è nata una cosa molto bella, ho detto ma questo è un magnifico spunto per cominciare oggi. Cioè in bibliografia io ai ragazzi do una serie di libri tra i quali c'è un libro piccolo e molto abbordabile di Stephen Hawking che si intitola Dal Big Bang ai Bucchi Neri. In inglese il titolo originale è Brief History of Time ma in italiano l'hanno chiamato in questo modo qua. E lui pone delle domande assolutamente raggiungibili a tutti e non da scienziati. E una sembra chiesta da una bambina di cinque anni e non l'ho più scordata da quando l'ho letto. Sostanzialmente interrogando l'universo e lo fa attraverso la matematica lui, si domanda perché le cose siano nel modo in cui sono e non siano in un altro modo. E allora davanti a questa domanda uno comincia a riflettere e siccome questo studente con cui parlavo è nata così la cosa, mi ha veramente incuriosito perché ha già rifatto esame due volte e ha fatto un salto di qualità. E mi ha portato delle immagini veramente interessanti, delle quali non sapeva parlare e delle quali era chiaramente inconsapevole. Io gli ho chiesto, gli ho fatto questa domanda, ma perché fotografi in modo in cui fotografi non in un altro? Sei in grado di analizzare queste immagini? Non ci è riuscito. Però mi sembra che abbia già aperto quella porta perché il suo lavoro interessa un aspetto della realtà indagato dal suo punto di vista molto interessante. Con una forte ambiguità, una forte non referenzialità dei soggetti e così via. E allora ho pensato, beh, questo si allaccia molto bene al discorso che andiamo a fare oggi assieme. Perché mi sembra che quando noi ci guardiamo indietro, guardiamo il nostro lavoro, siccome nessuno di noi ha vent'anni, io sto quasi raggiungendo l'età dei nonni di questi studenti. Prima avevo l'età dei padri, adesso sono la metà strada dei padri e nonni. Tutto ciò che abbiamo fatto, e nel nostro caso tutte le fotografie che abbiamo scattato, ci parlano chiaramente di noi stessi. Ma perché sono come sono? E non ne abbiamo fatte in un altro modo. Voglio dire, fino all'attimo prima di puntare l'obiettivo in una direzione, abbiamo una libertà assoluta, quasi assoluta. Possiamo rivolgerci ovunque noi vogliamo. Però ineludibilmente lo scatto fotografico avviene nel momento in cui ci diamo un punto di vista. Quel punto di vista è fisico, inalienabile. Senza punto di vista non nasce la fotografia. Ed è un punto di vista mentale. E come vediamo le cose, come le intendiamo, cosa però le dettiamo su di esse, come la realtà ci risponde, come noi ci riflettiamo in essa. E allora è proprio questo il punto. Alla fine le fotografie vengono come vengono, perché le abbiamo fatte noi. E perché le abbiamo fatte in quel modo? Avremmo potuto farle direttamente? Possiamo prendere così tante decisioni nella nostra vita, fare così tante scelte. Alla fine ci guardiamo indietro e le scelte saranno state quelle e non altre. E c'è uno strano caso di necessità, perché di tutte le scelte consapevoli che potevamo fare abbiamo fatto esattamente quelle e non le altre che forse avremmo potuto fare o credevamo di poter fare. E quindi volevo partire da qui, cioè dalla misura in cui le immagini in effetti ci rappresentano. La misura in cui esse sono una rappresentazione simbolica di noi stessi. Ecco, allora, io quest'anno faccio 50 anni nella fotografia, nel senso che me ne sono partito a 20 anni per andare a studiare la fotografia, andare in Inghilterra a studiarla e non l'ho mai smesso. L'ho contaminata, l'ho molto trasformata, l'ho contaminata con altri linguaggi. Realizzo non più solo lavori bidimensionali ma installazioni d'arte pubblica, installazioni negli spazi, utilizzo il video, la luce, il suono, altri mezzi. Però la fotografia rimane al centro di questo mio viaggio, di questa esperienza. Anche se il lavoro finito può non contenerla, la fotografia per me rimane al centro. È il linguaggio che conosco meglio ed è quello attraverso il quale ho sempre interrogato la realtà simbolicamente. Ecco, allora, Roberto ha dato come titolo a questo nostro incontro tre temi che ha trovato nella mia biografia, i quali tengo molto, che non ho scelto ma dai quali mi sono fatto scegliere, nel senso che è paradossale ciò che sto dicendo, ma li ritrovo in tutto il mio lavoro e quindi ci stanno. Sono l'assenza, l'altrove e la soglia. Sono questi tre temi qua. Li ritrovo in quanto, guardandomi indietro, vedo che c'è quasi costantemente questa ricerca attorno a questi tre poli, che di nuovo non ho scelto, ma evidentemente c'è qualcosa dentro che mi detta attraverso questi aspetti. Tra l'altro l'assenza e l'altrove sono due specificità del linguaggio fotografico molto forti. La fotografia sempre parla di qualcosa che non è davanti ai nostri occhi, è sempre altrove, è un'altrove presente, non l'abbiamo toccato, l'abbiamo solo visto e scritto con la luce e l'abbiamo trasferito in forma virtuale altrove, qua, in nostra presenza. Ed è sempre un'assenza, è una presenza di un'assenza. E poi c'è questa condizione della soglia, che cercherò di spiegare meglio dopo. Comunque questa condizione di ciò che unisce e separa contemporaneamente e come l'immagine possa essere letta come una soglia tra l'io e la cosa, tra la realtà e l'individuo. E allora sono 50 anni, mi chiedo cosa sia la fotografia, me lo chiedo con sempre più urgenza perché sì, perché mi interessa. E delle molte definizioni che ha dato volevo proporvene tre. Chiaramente non ho nessuna verità da portare al tavolo, ma se volete domande da condividere. Io ho tre idee di fotografia che volevo esporvi, esprimervi. Il primo è che la fotografia sia una meditazione sulla realtà. Il secondo è che sia la forma di una domanda con risposte multiple. E la terza è che possa essere letta come una soglia tra visibile e invisibile. Allora provo a dire come articolo questa mia idea. Una meditazione sulla realtà perché la fotografia si ciba di dati della realtà. Questo non possiamo farci nulla. Diversamente da un pittore, il fotografo realizza lo scatto, se è in presenza dell'oggetto che vorrà rappresentare. Al di là di quanto lo trasformerà tra il suo sguardo, la sua visione, la sua intenzione, le sue paure, le sue aspettative, l'oggetto deve essere esistito. E Roland Barcio dice con grande chiarezza questo aspetto qua. Questo nucleo finale dell'idea di fotografia. Che la cosa sia anche stata. Il problema è come è stata. Non è tanto l'esistenza della cosa, perché non possiamo farci nulla. La cosa è, e se non fosse stata non avremmo potuto fare un'esperienza. Non fotograficamente quantomeno. Però resta il fatto che la questione che mi sta veramente a cuore è questo come sono le cose. Visto che ciascuno di noi può raggiungere solo dal proprio punto di vista, fortemente soggettivo. La realtà delle cose è la nostra realtà. Come si incontrano l'uno con l'altro. La fotografia è un linguaggio pieno di limiti e che ha una grandissima potenza. E una questione mista a cuore è che quando conosciamo a fondo i limiti di ciò che non possiamo fare, riusciamo a fare tantissimo. Perché riusciamo ad andare veramente in profondità all'interno di ciò che già abbiamo, di ciò che è a disposizione. La fotografia ha questo limite tremendo di avere bisogno di un oggetto per riuscire a generare una rappresentazione delle cose, però al tempo stesso può trascenderlo e può trasformarlo in immagini fortemente simboliche, in metafore della realtà sostanzialmente. Una cosa che sta per l'altra. Ecco. E quindi penso che questo concetto di meditazione del reale possa essere importante. Mi sta molto a cuore. È qualcosa su cui rifletto molto. Perché sostanzialmente se chi noi siamo è un vero mistero, le forme finite che noi riusciamo a dare al mondo, le forme attraverso le quali ci rappresentano, ci rappresentiamo, possono dire molto e possono iniziare un percorso di comunicazione. Riusciamo a mettere in comune qualcosa con gli altri, oltre che con noi stessi. La seconda idea, poi sono tutte collegate le idee naturalmente, comunque per analizzarle individualmente, che sia la forma della domanda con risposte multiple. Questo pensiero è venuto in mente qua a New York, dove vi sto parlando, perché anni fa incontrarei un fotografo, lo intervistai perché dovevo scrivere qualcosa, lo intervistai, lui abitava, abitava, non so se abiti ancora, in un palazzo all'ultimo piano, downtown, da cui si vedevano benissimo le torri gemelle. E due anni dopo l'evento catastrofico, da questo terrazzo stupendo da cui guardavamo la città, io gli chiesi dove erano le torri, perché non avevo questa immagine negli occhi. E lui mi mostrò esattamente dove si trovassero. Ricordo come fosse adesso questo momento. C'era questa immagine mentale che lui aveva negli occhi, in assenza dell'oggetto fisico. E parlandogli, lui mi dette questa sua idea. Anzi, ve lo dico in inglese come una l'espressa, poi la traduciamo. Every picture that I take is a question that I pose. Ogni fotografia che io scatto è una domanda che io pongo. Ecco, non mi ha più lasciato quest'idea che si possa pensare alla fotografia come la forma simbolica di una domanda, che noi rivolgiamo all'esterno, riflettendoci nei dati incontrovertibili della realtà e trasformandoli nei dati finiti della nostra rappresentazione. Pensare alla fotografia come la forma di una domanda lo trovo un territorio molto fertile. Ma qual è la domanda che ci poniamo? L'oggetto sta là fuori. L'oggetto della nostra interrogazione sta qua dentro. Siamo noi che ci riflettiamo e in qualche modo cerchiamo di trarre da queste forme discrete, continue, dei dati del reale che fluiscono continuamente. Le nostre risposte che a volte sono istantanee. Una fotografia può essere il percorso di una settimana, di mesi di preparazione, come molti sanno, se lavora in studio, o può essere realizzata in un 125 secondi che ci portiamo dietro tutta la vita e continuiamo a riflettere su quello che è accaduto. E quindi su quello che è accaduto, su come stanno le cose, di cosa le immagini rappresenti, cosa dice di me e come nel tempo cambi il punto di vista di ciò che noi pensiamo sulla stessa cosa. Allora mi domando, la cosa è sempre la stessa? Se col passare il tempo la vedo io diversamente? Allora l'altra domanda senza risposta è ma la realtà contiene già tutte le proprie risposte, tutte le proprie immagini e noi momento per momento scegliamo perché vediamo quella a cui siamo in grado di rispondere, quella che ci rappresenta. Un po' come lo scultore che sottrae materia per poi arrivare al nodo che gli interessa, cioè rivela un'immagine scartando tutte quelle che potenzialmente sono contenute nei dati grezzi del reale e sottraendo raggiunge questa una immagine che deve finire o lasciare non terminata, comunque quella che eliminando tutte le altre possibili gli si è rivelata o che aveva già in mente o comunque si è dovuto ritrovare là fuori di sé. Quindi le cose troviamo là fuori e le portiamo qua dentro. Le cose le abbiamo dentro e le proiettiamo là fuori. Ecco, allora pensare alla fotografia come una forma simbolica di una domanda io trovo molto bello perché alla fine chiaramente trascende l'atto fotografico e diventa una domanda sulla nostra esistenza, sul nostro essere, su chi siamo e può un'immagine dirmi chi sono? Altra piccola domandina. Può un'immagine dirmi chi sono? Può un'immagine riflettere chi io sono? Perché in fondo le immagini ci dicono anche cose che verbalmente non siamo in grado di esprimere. Non riusciamo a esprimere in altra forma e ogni linguaggio che utilizziamo ci porta fuori in maniera diversa. La fotografia lo fa in maniera molto diversa dalla scrittura, dalla scrittura verbale, lo fa in maniera molto diversa dall'espressione acustica, sonora, dal comportamento, dal corpo umano. Lo fa attraverso la propria strutturazione, lo fa attraverso i propri limiti e lo fa in un modo anche molto misterioso perché alla fine quanto controlliamo dello scatto fotografico? A volte è più importante quello che ci sfugge di ciò che portiamo a casa veramente. Ecco. E la terza idea che mi sovviene alla quale tengo davvero molto a sto punto è di pensare alla fotografia come una soglia. Quel piano, a volte intangibile, che ci mette in collegamento e che separa l'interno dall'esterno. L'io, come si dice in inglese, I and it. L'io è la cosa là fuori, la cosa in sé che non può non essere esistita, se non ci sarebbe neanche l'immagine. E l'io, che è altrettanto misterioso e se posso dire altrettanto irraggiungibile. Perché le cose non le possiamo raggiungere. Ci arriviamo attraverso le immagini, attraverso le immagini che facciamo delle cose. Come ci hanno spiegato i neuroscienziati, i neurologi, che sono bravissimi a guardare nella testa delle persone. Io da loro ho imparato molto, li ho avuti anche in classe qua. Il rapporto che esiste tra immagine e pensiero. Cioè il fatto che sostanzialmente il segnale che riceviamo, che la retina trasmette attraverso il nervo ottico, la parte occipitale del cervello, non è altro che un segnale raw, un segnale grezzo, che diventa immagine nel momento in cui viene processato, associato alle memorie, a tutto ciò che pensiamo. Ad esempio la memoria, le aspettative, le paure. Tutto ciò che ci succede nella mente si associa a questo segnale e poi vediamo un'immagine della cosa. Il che spiegherebbe l'enorme soggettività del perché la stessa cosa da persone diverse venga intesa diversamente, perché viene pensata diversamente. E come è stato detto, vedere è una declinazione del verbo pensare. Questo è molto bello, nel senso che esprime enormemente la soggettività di ciò che percepiamo. Percepiamo ciò che sta fuori. Lo stimolo è tale perché noi lo riceviamo. Scusate, devo collegare il computer, se no ci scolleghiamo. Percepiamo le cose per il modo in cui noi le vediamo, ma le vediamo assolutamente attraverso un punto di vista che è declinazione di tutti i nostri pensieri, delle esperienze progresse, delle attese di quello che ci aspetta e così via. Quindi a me piace pensare che la fotografia possa essere vista come un piano virtuale, simbolico, ma anche fisico, se volete, che mette in comunicazione due mondi altrimenti irraggiungibili. Poi ovviamente non c'è solo questo. Allora per estensione passiamo dalla fotografia all'immagine, l'idea di immagine, no? La nostra immagine è scritta con la luce, altre immagini sono scritte con i pigmenti, o sono scritti con le scalpelli, sono scritti con altri strumenti. Usiamo sempre strumenti per generare immagini. Però queste immagini si pongono nella condizione mediana tra l'individuo e l'esperienza del mondo, la cosa là fuori e noi. E quindi gli viene scritto anche un forte valore esistenziale. e c'è una citazione che vorrei farvi di un letterato britannico che è Edward Forster che è questa. I do... cerco di ricordarmela. How do I know what I think until I hear what I say? How do I know what I think until I hear what I say? Come faccia sapere? come conosco ciò che penso finché non vedo ciò che dico. Adesso questo è un gioco di parole in Italia inesprimibile, ma in inglese ha senso. I see what you're saying vuol dire capisco quello che mi stai dicendo. Io non posso dire a Roberto vedo quello che mi stai dicendo perché capisco quello che stai dicendo. Loro usano il verbo to see. Molto anglosassone questa cosa qui. ma come faccio a sapere ciò che penso finché non vedo, finché non esprimo, finché non porto fuori il mio pensiero? E come faccio a portarlo fuori se non ne produco delle forme finite, se non lo rappresento in qualche modo? Attraverso la parola, l'immagine, il suono, il comportamento, l'olfatto. Ognuno ha le proprie strade. E questo mi sembra molto importante, cioè come facciamo a conoscerci se non leggiamo come lo studente di oggi se non vediamo quello che facciamo. Siccome prima non vedeva neanche quello che faceva, adesso almeno riesce a farlo qualcosa e adesso è sulla strada giusta, ha aperto quella porta. Però questo è vero per tutti, voglio dire, a qualsiasi età. Non è vero che guardando indietro capiamo un sacco su di noi guardando quello che abbiamo fatto. E se le vediamo come forme simboliche del nostro essere, questa immagine, quindi il nostro pensiero si esprime concretamente attraverso forme compiute del nostro linguaggio. Ecco, questo volevo che fosse un po' la premessa anche per entrare nelle questioni che mi stanno a cuore perché per quelle che non ci stanno a cuore possiamo lasciarle perdere per adesso. Quindi questi tre punti di vista sulla fotografia e in fondo è un continuo interrogarsi su cosa sia perché l'abbiamo scelta. Cioè se io penso i motivi per cui l'ho scelta quando avevo vent'anni oggi sono risibili eppure erano totalmente veri. Cioè ci ho azzeccato d'intuito non razionalmente perché ecco. Quindi perché l'abbiamo scelta? Perché la pratichiamo? Perché siamo qui a parlarne? Perché ho incontrato Roberto? Cosa è successo? In questi cosa è successo? E come dice Adu che è un fotografo cinese dice non importa in che direzione puntiamo la macchina fotografica in effetti la stiamo sempre puntando verso di noi. Cioè l'obiettivo può essere puntato verso l'esterno ma l'oggetto che stiamo interrogando è sempre l'io. A qualsiasi livello lo possiamo considerare. E questo si collega a un altro pensiero che mi sta davvero a cuore di un filosofo tedesco del Novecento importante che è stato Martin Buber il quale parla dell'individuo come un essere parla di ogni individuo di ogni essere umano come dice che siamo esseri unici originali e ripetibili. Ecco allora se è vero che siamo esseri unici originali e ripetibili i nostri gesti potrebbero esprimere questa unicità se ci riusciamo se siamo in grado se ci proviamo inevitabilmente lo faranno io penso che lo faranno questa originalità sta dentro e la portiamo fuori e l'immagine è un magnifico veicolo e la fotografia secondo me è un magnifico veicolo per farlo con tutti i limiti che ha naturalmente naturalmente perché quando guardiamo un quadro l'ultima domanda che ci poniamo è se scusate l'altro giorno stavo mostrando ai ragazzi loro non stanno neanche pronunciare il nome ma stavo mostrando un quadro di Antonello da Messina che trovo stupendo si trova a Palazzo Spinola a Genova si intitola Ecce Omo Ecce Omo ed è questo Cristo afflitto che si affaccia che sembra che si affacci perché lui ha usato genialmente la spalla più avanzata come se si affacciasse fuori dalla tavola e dalla cornice nella quale è messa e guardando questa figura che sembra afflitto non tanto per ciò che lo attende secondo la tradizione iconografica e così via ma per ciò che sta vedendo cioè chi ha di fronte è afflitto perché ha di fronte la gente che prima lo osannava adesso lo vuole a morte e infatti da lì a poche ore verrà crocifisso l'uomo Gesù ecco però Antonello chi è che avrà davanti agli occhi visto che lui ha questa straordinaria capacità di rappresentare esseri umani viventi ha imparato dai fiamminghi l'arte della pittura d'olio e ha trasceso completamente l'immagine bizantina eccolo qua grazie no non è questo questa è un'altra versione riesci a trovare quello di Palazzo Spinola la cerco grazie e io mi sento guardato da quella figura quando se la riesci a pescare nel pozzo delle immagini di internet ci sentiamo visti da quegli occhi perché quell'afflizione di chi è l'afflizione è di un uomo del mercato del pesce che lui ha preso come modello cioè non è Gesù di Nazareth quell'uomo là è un'idea di Gesù ma questa idea di Gesù lui l'ha costruita proiettandola addosso a un uomo in carne ed ossa che ha scelto come modello al quale ha dato quell'espressione e questo ma l'ha mai avuto veramente davanti agli occhi e gli assomigliava era quella la persona questo è un problema che il fotogra non riesce neanche a porsi eccolo qua grazie è proprio questo qua è proprio questo guardate questi occhi io mi sento guardato da quegli occhi ed è il completamento dell'immagine lo sguardo di chi lo osserva lui ci osserva noi vediamo lui e in questo scambio di sguardi è questa magia dell'immagine ma è l'immagine dell'uomo che lui aveva davanti agli occhi o è ciò che lui ha proiettato sul corpo fisico di questo individuo come l'immagine di qualcuno ci ha dovuto proiettare tutta l'iconografia cristiana e molto di più e molto di più e quello che avverto come senso di afflizione mi sembra generato più da ciò che lui che sta ciò che lui sta vedendo no un altro può dire beh cavolo è stato condannato a morte da lì a poco viene messo in croce quindi tanto felice non poteva essere però io sento che l'artista ha trasceso questo piano e ha costruito un'immagine simbolica di un essere umano ecco per il fotografo la strada veramente irta è molto difficile infatti esistono i modelli i modelli che per professione diventano qualcosa altro da sé li carichiamo per chi fotografa modelli insomma li carichiamo nel ruolo che devono avere e li facciamo diventare quelle figure che ci immaginiamo che essi possano essere però è impossibile trascendere la fisicità dell'individuo perché senza modello la foto del modello non sarebbe esistita e questo è un limite tremendo cioè non possiamo farne a meno però possiamo riflettere sono i dati della realtà cose che ci sono profondamente a cuore e profondamente chi noi siamo chi noi siamo come vediamo le cose come vogliamo che gli altri le vedano pierallendianamente pierallendianamente chi crediamo di essere come gli altri ci osservano e che immaginiamo al mondo di noi stessi e c'è in ballo la forma espressiva del nostro essere c'è in ballo la nostra capacità di comunicare con gli altri cosa siamo in grado di comunicare con gli altri e quindi niente mi interessa molto questa interrogazione su noi stessi attraverso le immagini del mondo che ci riflettono e penso che questa sia una prerogativa del linguaggio fotografico molto forte e le cose sono già lì sono già lì e si tratta di riconoscerle e si tratta di è una forma di può essere vista proprio come una forma di riconoscimento come un conoscere quella seconda volta un riconoscere le cose e allora le cose stanno là e noi ci rivolgiamo ad esse e esse ci parlano e parlano la nostra lingua tanto loro parlano qualsiasi lingua vogliamo affidare loro però ce n'è una in particolare che ci sta più a cuore delle altre che diventa la nostra quindi una forma di autoriconoscimento e un altro aspetto che trovo interessante del fotografico è che si può utilizzare nella vita quotidiana non è che dobbiamo andare a dei luoghi delegati se no non posso fotografare lo posso fare a cesso lo posso fare nel mio studio lo posso fare per strada lo posso fare in qualsiasi momento della vita e forse le cose ci sono già tutte davanti agli occhi e il problema è vederle il problema è vederle e riconoscerle poi possiamo costruirle le cose fuori di noi o possiamo trovarle catturarle lì ci sono strade diverse nel fotografico c'è la strada del colletto reportage social documentary c'è la stage photography che punta piuttosto alla costruzione dei dati della realtà però sono due strade opposte è vero ma che si avvicinano molto l'una all'altra perché alla fine il regista è sempre il fotografo e se noi pensiamo alla cornice della fotografia visto che fondamentalmente il fotografo per fotografare deve generare il buio attorno a sé talvolta deve addirittura chiudere un occhio spalancare l'altro e guardare attraverso un mirino e obbligarsi a non vedere tutto il resto tutto il resto per guardare uno spazio che può essere grande ad esempio 24 per 36 mm è piccolissimo eppure ci sta ci sta tanto dentro 24 per 36 mm e puntando la macchina scegliamo selezioniamo sottraiamo e puntiamo in questo punto specifico e che isola un elemento dal resto dei dati del reale e sostanzialmente avviene uno specchiamento avviene se qualcuno di voi ha letto quel magnifico librettino di un filosofo tedesco che ahimè ahimè ho scoperto ma anzi mi ha fatto stupire uno studente che lui è andato è andato in Giappone a insegnare filosofia occidentale in una università e contemporaneamente si è messo a studiare l'arte del tiro con l'arco Huygen Ehrigel l'arte del tiro con l'arco ci sono scusate lo zen e l'arte del tiro con l'arco cioè abbracciato la pratica zen del tiro con l'arco e da quando l'essi nella notte dei tempi quel libretto non ho mai smesso di pensare che avessi un rapporto molto forte con l'arto fotografico in quanto noi miriamo fuori di noi certamente così come l'arciere punta il bersaglio e raggiungiamo il bersaglio nel momento in cui così spiega il maestro zen al filosofo occidentale nel momento in cui raggiungiamo quel punto che ci corrisponde dentro di noi e quel punto esiste è un punto vitale che andiamo toccando nel momento in cui esercitiamo l'arte attraverso questo gesto di scambio col mondo esterno ci serve sempre un medium ci serve sempre un mezzo qualcosa che sta tra noi e la cosa che sia l'arco con le frecce che sia l'apparecchio fotografico che sia il pennello cioè è fondamentale ma cambia anche molto poco è questo strumento che ci mette in collegamento e quindi nel quotidiano nel quotidiano noi possiamo puntare la macchina in qualsiasi direzione e poi selezioniamo questo punto che ci tocca perché lo tocchiamo a cui rispondiamo e diventa veramente un riflesso un riflesso una riflessione nel vero senso della parola ecco questa idea della quotidianità mi interessa assai perché è qualcosa che la fotografia fa con grande agilità con grande facilità poi adesso con l'uso dei telefoni cellulari la cosa poi è a portata di tutti poi l'uso che ne facciamo ma la possibilità di catturare un'immagine di qualcosa non è più soltanto a beneficio di chi conosce profondamente i linguaggi poi bisogna vedere che immagine produce naturalmente ecco e basta cioè da qui si possono aprire tanti cerchi tanti cerchi come quando si lancia il sassolino nell'acqua poi questi cerchi curiosamente rimbalzano cominciano a incrociarsi diventano delle ondine diventano un movimento in relazione ad esso e e poi se volete che dica se vi interessa se no lo faccio tutta meno io sono un artista e un docente però sono stato anche parallelamente per molti anni un fotografo professionista e mi sono onestamente guadagnato da vivere facendo fotografia editoriale di architettura d'interno e sapevo ed è assolutamente vero che i meccanismi a professione mangiano l'anima perché te la mangiano tutta per cui non so la mia scelta è stata quella di perseguire due strade parallele l'una che era quella che sapevo fare perché avevo imparato a fare la scuola di fotografo professionista e l'altra l'ho perseguita da solo perché non ha avuto grandi maestri nella vita ovviamente non li ho avuti quindi sono un autodidatta come dicono qua il self-taught man e ho chiesto accesso al mondo dell'arte perché mi interessava moltissimo consideravo un valore irrinunciabile irrinunciabile e mi ci sono mosso goffamente perché perché negli anni in cui l'ho fatto oggi è molto più facile la fotografia non era assolutamente considerata uno strumento di espressione artistica e allora se io postavo in una galleria d'arte un portfolio mio mi dicevano che dovevo andare nelle gallerie di fotografia e non volevo andarci per una serie di motivi e quindi la mia storia è passata di lì attraverso due vite parallele uno stato di schizofrenia completo e poi miracolosamente ho cominciato a guadagnarmi da vivere facendo l'artista e lavorando sempre meno come professionista fino a quando ci siamo lasciati con reciproca gioia e riconoscimento cioè io praticamente ho lasciato la professione se estinguesse come era giusto che fosse come era giusto che fosse quando lavoravo ancora c'erano i primi fotografi giovani che lavoravano in digitale però la cosa che mi colpiva che non è che wow lavoro in digitale cioè alla fine toglievi toglievi rendevi solo la vita più facile al sistema nel quale lavoravi la 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 stilist non la stilist la redattrice non aveva più prendere l'automobile uscire dalla redazione venire in sala di posa spostarti le cose vedeva le cose a distanza potevano costruire gli ambienti senza più costruire i soffitti tanto doveva aggiungersi di tutto la sera e così praticamente i fotografi lavoravano di più di più per il sistema che li aveva chiamati vabbè questa è una è una mia disgressione però ho lasciato quando il digitale stava entrando prepotentemente nel sistema ed era chiaro che dovevo cambiare anch'io era chiaro perché io lavoravo col banco ottico perché poi la qualità e tutto però volevano più scatti meno tempo e queste cose che sappiamo e quindi il miracolo della mia vita è stato di riuscire ad uscire da quel mondo quando il mondo che mi interessava profondamente ha cominciato ad accettarmi ecco adesso ci sono dentro fino al collo ed è difficile veramente difficile è un processo un divenire non c'è veramente niente di sicuro però vado avanti perché mi interessa molto e i lavori che produco oggi mi stupiscono perché non assomigliano più alle cose che facevo prima sto cercando di fare lavori tridimensionali sto cercando di portare l'immagine alla terza dimensione stanno uscendo degli alto rilievi sostanzialmente e grazie alle tecnologie questo si può fare oggi questo si riesce a farlo prima non avrei saputo come quindi questo è il mio oggi cercare di portare l'immagine bidimensionale alla terza dimensione e realizzare dei lavori che implichino la presenza di chi li guarda quindi quelle installazioni che mutano secondo il punto di vista dell'osservatore delle relazioni che si instaurano nello spazio ecco questo volevo dirvi poi se volete ho degli esempi di lavoro ma forse non so se è necessario guardarlo il lavoro assolutamente mi farebbe molto piacere e penso di interpretare però volevo dire una cosa prego cioè fare un ringraziamento esteso in che senso mentre è evidente a tutti che tu sai usare un registro linguistico che non appartiene al quotidiano per la quasi totalità di noi e quindi che interloquire con il discorso che hai appena fatto o quelli che sono capaci di fare mette un po' a disagio per incapacità di non di pensare cose profonde ma di esprimerle con un registro linguistico che sia che non sembri legno accanto al diamante come però al di là di questo al di là di questo ti volevo ringraziare perché mentre la mente e il cuore di ciascuno di noi è chiaramente un guazzabuglio di esperienze di sensazioni di sentimenti e nel nel guazzabuglio cerchiamo di ritrovare quello che è traccia del nostro pensiero nelle stimolazioni che abbiamo verso l'esterno per cui nascono gli amori culturali nascono gli amori cerchiamo dei riflessi di noi in quello che viene detto in quello che sentiamo in quello che vediamo il fatto di incontrare una persona che come te anche se in maniera più forbita rispetto al parlare quotidiano però mette sul tavolo delle cose che delle esperienze interne che quasi tutti di noi abbiamo percorso ma quasi nessuno ha raccontato beh questo tuo darti impasto dare impasto il tuo sentire il tuo pensiero permette alla mia idea solo abbozzata e imbozzolita di riconoscersi all'esterno di riconoscersi in un sistema completo e di poter venire fuori dandomi soddisfazione e in chi chiede si interroga con i colleghi o chi chiede in sede dell'associazione ma rievoca il desiderio di essere un artista così come tu sei per scelta per questo esempio è un esempio abbastanza chiaro di che cosa significhi fare arte con la fotografia o per tramite di mezzi espressivi come anche la fotografia significa avere delle cose da dire al di là del fatto che si usi un mezzo al di là del fatto che si voglia fare esprimere alla fotografia qualcosa perché serve che esprima quello che tu hai dentro e quello che hai dentro deve servire agli altri così come è successo adesso per lo meno per me mi collego a quello che hai appena detto con questo pensiero qua la questione del linguaggio mi sta veramente a cuore il linguaggio ci parla cioè noi parliamo attraverso il linguaggio ma noi siamo parlati dal linguaggio molte di queste idee che io ho secondo me passano attraverso la pratica artistica nel senso che se avessi scelto un altro mezzo le avrei formalizzate diversamente queste domande questi pensieri il mio rapporto con la realtà mediato dalla fotografia perché non ne conosco altre mediazioni non ho mai dipinto non ho mai disegnato non ho mai scopito ho studiato quelle cose ma non le ho mai praticate passa attraverso questo linguaggio e quindi io riesco a esprimermi solo attraverso di esso poi gli ascrivo un valore simbolico e questo mi sta a cuore e forse lì possiamo parlare tra virgolette di universali mi sto confrontando in questo periodo con difficoltà enormi enormi veramente ne scomortificato con degli scienziati è stata è una sfida veramente una sfida se ne esce sconfitti cioè sto scrivendo delle cose per le riviste scientifiche sì sì arte scienza arte scienza interessantissimo ho partito ho partito ho partito un convegno a Trieste su arte scienza sì sì lo pubblichiamo poi quando gli dai le tue cose non va mai bene perché loro vogliono che si rientri in questi canoni in questi schemi di una rigidità pazzesca soprattutto sul piano bibliografico e io non ce l'ho quella cosa non l'ho mai fatta cioè mi sento rozzo le idee che gli porto va bene sono escono da un forte stato di soggettività però vedo che ho dei riscontri cioè le incontro alle persone nelle espressioni di quelle idee sulle immagini però gli scienziati si interagano a modo mio a modo di vedere su problemi non così tanto diversi da angolature molto differenti ma arrivando a conclusioni spesso molto paragonabili molto vicine molto paragonabili io un esempio tra tutti vecchio come il cucco ma che continua a riflettere sul fatto che i cubisti ed Einstein stanno lavorando esattamente negli stessi anni esattamente sulla stessa cosa senza l'uno sapere niente degli altri io non so Einstein che rapporto avesse con i cubisti ma sono sicuro che i cubisti erano molto interessati a creare una immagine della realtà dilatata di moltiplici punti di vista simultaneamente ordinati e questo ci sono riusciti benissimo a farlo tant'è vero che questa tragedia che è stata l'ingresso della fotografia nel mondo dell'arte ha portato non alla morte della pittura ma alla rivoluzione dell'arte astratta che è un altro modo di guardare la realtà sostanzialmente un altro modo di guardare la tela non i dati esterni di guardare la tela stessa di poter dipingere in assenza dell'oggetto il fotografo direbbe in assenza del referente Einstein ci insegna che dal punto di vista che il fenomeno può essere provo a dirlo così che il fenomeno è relativo al punto di vista dal quale viene osservato quindi il punto di vista dell'osservatore è fondamentale nell'osservazione del fenomeno e poi nella meccanica quantistica sono arrivati a concepire il fatto che che il fenomeno profondamente non esiste in assenza di chi si relaziona con esso quindi l'osservatore che influenza l'esistenza stessa del dato della realtà così mi piace portare l'acqua al mio mulino francamente non so se stanno proprio così le cose però mi interessa molto questo punto di vista il problema è che portare le nostre idee di là è malattamente difficile perché ho incontrato una rigidità di schemi veramente molto forte ho due lavori in sospeso tutti e due bloccati dai reviewers perché non passano a meno che io non riediti il testo e tutto quanto non perché non interessano le idee ma perché la forma non è conforme ai loro schemi a priori e questo è quanto e posso dire che sto vivendo degli stati di frustrazione spaventosi perché uno ci tiene a ciò che fa e poi ci teniamo che le cose vengano approvate ci teniamo che siano riconosciute in un consesso diavolo a chi è che non interessa che il proprio lavoro abbia un contesto nel quale viene ricevuto e allora niente sono giorni e notti di lavoro lì bloccate completamente adesso mi hanno dato un mese più per riprovarci e ci riproverò perché non lo voglio abbandonare però mi piacerebbe che anche loro venissero un po' da questa parte dello stagno da questa parte facessero anche loro un saltino perché dicono tanto che sì sì il rapporto arte-scienza oggi è fondamentale però come diciamo noi e allora nel gioco è un po' asimmetrico ecco questo è solo per parlarvi solo di alcune le frustrazioni che sto vivendo oggi solo di alcune e poi ci sono quelle professionali che sono spaventose ma amen ognuno ha le proprie vogliamo provare a aprire un piccolo dibattito e poi guardiamo un lavoro qualcosa come volete voi c'è Paolo Paolo Aldi che ecco Paolo eh prima di tutto grazie grazie hai portato hai messo tanta carne al fuoco ma in un modo sistemico e quindi lo si riesce ad affrontare bene e certo ho parlato di tante cose io due tre vorrei riprendere la bellissima affermazione che hai fatto a un certo punto dicendo che per te l'arte è un valore rinunciabile sì e che mi sembra assolutamente importante anche perché poi si collegava in queste ultime cose che hai portato adesso cioè il rapporto per esempio con la scienza il fatto di difendere il rapporto del tuo mondo artistico con quello scientifico dicendo che siamo siamo sullo stesso siamo in parità insomma dobbiamo confrontarlo e che è una domanda che fai a loro e però la ricollego molto a quel discorso che hai fatto della fotografia come risposta chiara o risposta aperta a delle domande sì con risposte multiple perché che condivido molto e credo molto in questo io ho questa convinzione che il nostro mondo che è fotografico la fotografia con tutti i limiti che hai tu hai mi hai espressi tanti benissimo nel fatto di poter dare una risposta aperta ha delle grandi possibilità che per esempio non ha il linguaggio scritto piuttosto che anche quello verbale che partono da un punto e storicamente vanno sempre avanti sono sempre proiettati verso il futuro devo leggere quello che c'è dopo mentre noi costruiamo un mondo fotografico che non ha questa continuità conseguenzialità di ogni cosa ma invece è un mondo molto più io lo definisco più magico cioè ogni ogni cosa che c'è in un'immagine si rapporta con altre cose che ci sono nell'immagine e noi possiamo muoversi all'interno in modo molto libero quando ci muoviamo in modo molto libero come spettatore abbiamo modo di anche vedere come come noi vediamo sulla nostra esperienza e molto spesso è anche diverso da quello di chi ha fotografato e questo a questo punto la risposta ecco che diventa aperta e che diventa assolutamente interessante in cui il rapporto mio come fotografo è con chi la guarda perché io ho scattato la foto io l'ho presentata ma anche chi la guarda la interpreta e la vede con i suoi occhi con la sua mente con la sua storia con la sua coscienza secondo me questo è una cosa importante che che tu hai espresso io provo ad aggiungere queste cose per vedere di provo a collegarmi con quello che hai detto provo a collegarmi con quello che hai detto allora io non credo più alla gerarchia dei linguaggi ok quindi l'immagine comunica in un modo il linguaggio verbale in un altro ma non è che è più aperto secondo me io la vedo così cioè le immagini dicono tutto subito questi piani sono simultaneamente presenti e tu osservandoli li separi parti da quello letterale in fotografia soprattutto la natura dell'oggetto rappresentato e poi cominci ad ascrivere valori diversi per cui il punto di vista del fotografo e quello dell'osservatore può non coincidere ma questo è vero con ogni forma di immagine visiva a mio avviso in quello verbale cosa funziona in maniera diversa nella lettura sì c'è ci può essere una lettura lineare di un prima di un durante un dopo però il modo in cui quelle parole ci risuonano dentro è altrettanto secondo me influenzato dall'orecchio di chi le ascolta l'orecchio mentale di chi le ascolta in questo momento sto leggendo un libro che trovo davvero straordinario davvero straordinario è un libro che parla della storia di certi emigrati negli Stati Uniti dalla Polonia negli anni 40 quelli che sono salvati dall'orrore della seconda guerra mondiale così però quelle parole mi risuonano dentro in un modo che io non conosco ma lo sento per problemi legati alla mia storia individuale ai fantasmi della mia famiglia alle cose che sono successe e non entro nei particolari però come lui mi parla lo scrittore mi risuonano dentro quelle parole in un modo che lui non può prevedere lui ha creato questo palcoscenico e all'interno di quel palcoscenico le parole suonano dentro nella mente di ciascuno che le osserva ecco questo cioè non è una risposta a quello che stai dicendo però mi sembra che piuttosto che generare delle gerarchie dei linguaggi mi sembra che esse operino con modalità molto diverse tra loro certo che leggere un libro e guardare un'immagine è una pratica assai diversa però lo scrittore ci genera immaginamente e continuamente se tu leggi un nome tra tutti Italo Calvino è un produttore di immagini verbali pazzesco cioè ogni cosa che ti dice tu ne crei un castello nella tua mente di quelle immagini e lui si interroga si interroga del perché come faccio uno scrittore a produrre delle immagini visto che non sono immagini rettiniche da dove gli vengono quelle immagini da che pozzo va a pescarle visto che non sono fuori di sé la risposta lui non ce l'ha però è molto bello porsi queste domande no? e trovo bello che ciascuno nella propria pratica si interroga attorno ai meccanismi della propria pratica del proprio linguaggio è un collega che in chat chiedeva se hai modo e voglia di dare un po' di bibliografia guarda è un work in progress la bibliografia se tu hai piacere io ti mando la bibliografia che do ai ragazzi alcuni ragazzi sono adulti tra l'altro perché insegna anche non solo a classe di ventenne volentieri molto volentieri sia di saggistica che di narrativa beh uno è questo libro che ho appena citato di Calvino no scusa sì di Calvino le lezioni americane di Calvino che tra l'altro che tra l'altro lui non è mai riuscito a dare queste lezioni ve l'hanno invitato questo tenere questo ciclo di conferenze lui ha scelto di parlare della propria arte quindi della scrittura e solo che nella preparazione delle conferenze ad un certo punto si è ammalato insomma è morto è morto il lavoro non è mai stato dato ma è stato dato alla stampa la vedova ha messo assieme le note e questo è un patrimonio irrinunciabile di conoscenza perché lui parla della scrittura ma noi potremmo parlare della pittura della fotografia della scultura della musica ognuno interroga gli elementi del proprio linguaggio assolutamente sì un altro che mi viene subito in mente e da non perdersi è del di Perkovsky il regista russo Scolpire il tempo che è un bellissimo libro dove lui interroga il linguaggio cinematografico e lo fa in maniera estremamente profonda e simbolica se hai piacere vi mando bibliografia e tu la mandi va benissimo certo ok c'è una manina alzata da Alberto Ionafalco Alberto che piacere ecco ma guarda che ci ritroviamo incredibile ogni tanto capitano queste coincidenze fantastico ciao grazie Tau e soprattutto grazie Silvio è bello ritrovarsi assolutamente partiamo con i grazie grazie per aver portato anche Martin Buber dentro Tau assolutamente irrinunciabile concordo ovviamente e volevo prima una piccolissimo suggerimento scusa se frugolo o nell'intimo ma volevo sapere anche il testo che stai leggendo che hai sul comodino sugli immigrati polacchi degli anni 40 sì è di Isaac Zinger Isaac Bashevi Zinger e si intitola Ombre sul sul fiume Hudson Ombre sullo Hudson Ombre sull'Hudson e siccome l'ha scritto in Yiddish lo puoi leggere o in inglese o tradotto molto bene in italiano preferisco l'inglese ma l'Yiddish non ce la faccio ma la traduzione italiana è magnifica ottimo secondo grazie per aver citato anche Calvino che è uno dei miei prediletti e le lezioni americane non è da poco però basta quei ringraziamenti a questo punto ho qualche rottura di scatole domanda proprio per averti come posso dire aver condiviso con te qualche passo della tua straordinaria camminata su questa terra sì dunque l'universalità del messaggio dell'opera d'arte sì mi fermo cioè due punti siccome quando io diciamo leggo un libro di Calvino le immagini che mi regala sono mie perché le vado a cercare dentro di me sì una tua installazione regala all'osservatore quello che riflette all'osservatore gli tira fuori quello che lui ha dentro di sé come far sì che l'opera d'arte abbia però un messaggio universale oppure abbia un messaggio che riesce a comunicare quello che è l'intento del diciamo dell'autore nei confronti del fruitore visto che ognuno ha il proprio linguaggio e ha il proprio passato il proprio la propria immagine non solo retinica io questa risposta non ce l'ho veramente però vado a affrontarla in due modi ti ricordi il nostro maestro che non citiamo che dice sempre alla fine delle sue conferenze le buone domande non hanno risposto quelle cattive non meritano una risposta ecco però diversamente diversamente a lui ci provo in questo modo uno ci riesci solo a mio avviso ci riesci solo scrutandoti dentro cioè attraverso l'individualità la soggettività ti colleghi con gli altri perché forse andiamo a toccare un fondo comune che ci riguarda tutti io non posso avere l'intenzione di creare un messaggio umano niente di peggio cioè un fallimento a priori ma di che università parliamo di quale università come fai a creare un'opera che abbia un valore universale intanto saranno gli altri ad ascrivere questo valore non tu certo come ha detto il bravo Pablo anche Picasso di cognome l'arte è una bugia che ti aiuta a intendere la verità lui ha detto tu parti da una bugia certo è un falso è un falso clamoroso però ti apre delle porte e se percorri quelle strade arrivi a riconoscere dei punti per te rilevanti io penso che ci arrivi ci arriva l'individuo attraverso l'individualità ad allargarsi verso gli altri e ciascuno ti ascolterà con un altro orecchio naturalmente e l'altro l'altra riflessione è che l'arte è specifica del suo tempo è time specific totalmente perché qualsiasi gesto che compiamo lo generiamo nella nostra vita nel tempo in cui viviamo con i nostri condizionamenti secondo i nostri valori le nostre secondo ciò che noi siamo in sostanza però e anche è sempre stata contemporanea l'arte è sempre stata contemporanea il bravo Antonello da Messina parlava parlava la lingua del suo tempo e forse non è stato un anticipatore cioè gli artisti non anticipano se mai gli artisti vivono il presente in maniera coccente e sono in grado di dare delle forme rappresentabili finite del proprio tempo presente e questo tempo può diventare contemporanea nel senso che lo leggiamo oggi ci poniamo delle domande che ci appartengono oggi non sono più le domande che si poneva Antonello a metà del Quattrocento però probabilmente ci ha interrogati ci ha convocati su un terreno che ci risuona dentro e penso che quello possa essere un terreno di contemporaneità cioè come noi formuliamo le domande oggi attraverso quello che lui ha fatto allora ecco ti ho offerto due non risposte alla tua domanda apprezzo molto le non risposte ti lascio agli altri con un po' di gelosia ma ti lascio agli altri va bene va bene grazie mille c'è Andrea che ha la mano alzata Andrea Catoni Andrea non ti vedo sei in chat e cosa c'è scritto sono in chat prego non ho la telecamera ah la vedo aspetta che ci clicco sopra così leggo in alto in basso dov'è è l'ultima domanda sì in fondo non ho la telecamera Gara secondo te quanti giovani fotografi capiscono l'importanza della cultura non solo fotografica ma a 370 gradi per poter realizzare immagini profonde ricche di sfumature emotive piuttosto che delle immagini usegette che vanno per la maggiore oggi ho ritratto di Erwin Penn per esempio non è la fototessa del tale personaggio ma è il ritratto psicologico del personaggio per esempio non lo so io a scuola ci provo secondo me le scuole ci provano con i loro limiti con i loro limiti io ho chiesto da anni ma lo IED non lo fa non lo fa di aggiungere storia dell'arte un anno in più storia della fotografia un anno in più ma non lo fa perché bisogna veramente ampliare il più possibile l'orizzonte ritengo che non dobbiamo guardare solo nell'ottica disciplinare specifica ma in maniera molto aperta anche una pluralità di linguaggi perché poi non è mica detto che la fotografia sia la cosa giusta che stiamo facendo va bene e non va bene non lo sappiamo finché non ci proviamo però a volte utilizzando assieme altri mezzi altri ci sono studenti che io incito a lavorare anche con la propria manualità non solo attraverso l'immagine meccanica o ottica perché vedi che hanno un potenziale vedi che hanno la capacità di elaborare le immagini fisicamente cioè ritengo che la cultura sia fondamentale non solo quella però devi conoscere anche la storia del linguaggio che tu adoperi perché se no cioè veramente non sai quello che stai facendo guarda qui negli Stati Uniti è drammatica cioè è drammatica la cosa io insegno uno dei due corsi l'hanno messo all'interno del corso di storia dell'arte perché loro devono ricevere un certo numero di credit in humanities e quando chiedo il primo giorno ai studenti perché hanno scelto il mio corso molto genuinamente quasi non molti mi dicono che lo scelgono perché non sembra un corso di storia dell'arte perché per loro la storia dell'arte è una roba vecchia non gli interessa sono sospettosi non la capiscono così e io gli dico sì io non sono uno storico dell'arte né pretendo di esserlo né mi interessa esserlo e guardiamo Antonello da Messina e il lavoro contemporaneo uno accanto all'altro perciò che le immagini sono in grado di esprimere e di comunicarci e non per questo bisogno a volte ossessivo dello storico dell'arte di contestualizzare tutto perché così tutto si giustifica con tutto il rispetto per la loro professione naturalmente cioè noi agiamo e compiamo dei gesti e poi gli altri saranno loro a contestualizzarli e a metterli in una prospettiva per cui ti troverai in quella mostra e non in quell'altra e così via ma questi sono altri discorsi che passano attraverso anche questioni politiche naturalmente non solo rado d'altro quindi sì è molto importante la cultura non solo fotografica e non solo quella del 21esimo secolo aggiungo intanto che qualcun altro prende il coraggio a quattro mani e fa outing vogliamo vedere qualcuno dei tuoi lavori? dai allora provo a condividere io vi ho preparato un piccolo pacchettino è lo stesso che ho preparato per i miei studenti perché perché è un pacchetto sono sei lavori sei bodies of work allora share screen cioè tre cicli fotografici e tre cicli di installazione ecco sono questi qua vedete il titolo di questa cartella who I am perché cerco di dirgli chi sono attraverso ciò che faccio come devo raccontargli se mi piacciono i cagnolini se mi piacciono i dolci allora questo questo è il ciclo delle icone di luce che sono le fotografie analogiche che io realizzavo in diapositiva fotografando nelle chiese nei musei i quadri ad olio da quella posizione svantaggiosa dalla quale noi sostanzialmente ci ritiriamo perché non riusciamo a vedere il quadro cioè non ho mai aggiunto luce ho sempre usato la luce ambiente che è la luce dei faretti o la luce delle finestre e ho cercato il riflesso che cancella l'icona sostanzialmente così facendo così facendo la pittura è scomparsa ed è apparsa la fotografia perché è la stessa luce che mi ha permesso lo scatto proprio l'esposizione detta così l'esposizione fotografica è funzione della luce che entra nella nostra macchina e modifica il supporto fotosensibile quella luce che ha modificato il supporto la pellicola c'era e io l'ho fotografata e ha cancellato il quadro però così facendo non trovandomi mai in posizione ortogonale ho sempre fatto delle foto laterali e allora mi sono detto perché devo usare tutta la diapositiva se la foto che rappresenta il quadro in realtà è questa e allora ho tagliato via ho tagliato via dal fotogramma il quadro e l'ho stampato allora li stampavo su Cibacron che è un materiale che non esiste più era l'unico allora che desse garanzie di conservazione museale molto delicato molto delicato ma molto bello perché aveva questa superficie specchiante quasi metallica e poi le ho montate su tavole di laminato espanso da 4 cm bordate e smaltate le ho coperte con questa smaltatura lucida per restituire la fotografia un po' della sua dimensione fisica oggettuale e guardando i lavori mi sono nata due o tre riflessioni una è che contiene un doppio processo di nascita e di morte c'è una generazione e c'è una scomparsa la nascita della fotografia e la scomparsa della pittura l'uno ed è la soglia il punto che rappresenta l'inserzione dell'una e la scomparsa dell'altra cioè il piano della fotografia diventa quel piano dove questo doppio processo avviene e si riconosce una cosa accade mentre l'altra accade però sono di segno opposto e la nascita dell'una è necessaria alla morte dell'altra e poi questa interrogazione sulla fotografia che era veramente una scrittura di luce e allora ogni fotografia 99,9 periodico delle fotografie sono immagini di luce riflessa degli oggetti del mondo la luce si riflette sulle cose e la parte di luce che non è trattenuta va a modificare la superficie fotosensibile questo accade in questo caso quella luce che ha bagnato la superficie del quadro l'ha anche quindi l'ha illuminata è anche rimasta è rimasta aggrappata è rimasta dentro all'immagine è stata catturata nel vero senso della parola e quindi qua si vedono le due cose assieme e poi l'altra cosa veramente curiosa sono queste forme trapezoidali questo è il lavoro installato a parete le forme trapezoidali sono date proprio dal fatto che noi voglio dire se voi guardate lo schermo del computer da sinistra da destra comunque vedete un rettangolo perché noi sappiamo che lo schermo è rettangolare lo pensiamo rettangolare quindi lo vediamo rettangolare ma lui non è rettangolare dal nostro punto di vista trapezoidale e se prendi la macchina fotografica è la prova approvata che le cose sono proprio così cioè in questo senso l'ottica diventa un'estensione della rettina tu vedi le cose vedi delle figure sghembe vedi dei trapezzi ma li pensi rettangolari quindi li vedi rettangolari infatti sono dei quadri no? sono quadri perché sono quadrati e sono rettangolari ma la realtà non ha gli angoli retti li diamo noi gli diamo noi questi angoli retti li imponiamo attraverso il mirino il limite della ripresa fotografica e quindi mi è piaciuto restituire queste forme sghembe perché profondamente ti dicono oggettivamente quello che stai vedendo delle figure sghembe non dei rettangoli una volta appese alla parete poi cambiano secondo il punto di vista da cui li osservi naturalmente e sembrano un po' tridimensionali sono delle illusioni perché in effetti sono dei piani applicati su dei corpi di 4 cm l'altro corpo l'altro ciclo è quello degli orizzonti questi sono gli orizzonti sono appropriazione dello scarto del processo fotografico sono il pezzettino di beh lo sapete tutti sono il pezzettino di pellicola che il laboratorio taglia e butta via quando vi consegna le diapositive tagliate nelle scatoline però se voi chiedevate perché non lo chiede più nessuno di numerare le scatoline vi metteranno dentro anche il primo pezzetto della pellicola io queste robe le ho raccolte per anni perché mi piaceranno molte ma non riuscivo a dare nessun senso ad esse figurino in un cassetto poi un curatore mi invitò mi ricordo nel 2000 nel 2002 credo nel 2002 a una mostra il cui titolo era la scomparsa dell'immagine quando ho letto la scomparsa ho detto guarda adesso vedo sono delle comparse il sedente è l'opposto sono delle apparizioni è l'immagine prima dello scatto c'è già allora ho cominciato a tagliare queste cose e ingrandirle in questo modo qua sono dei grandi dei grandi immagini retroplexiglass a volte sono grandi se posso installarle nello spazio architettonico che sembrano astratte perché sembrano le hanno paragonate alla pittura di Rochko che è un artista che io amo moltissimo però trovo veramente inappropriato il paragone perché lui fa un gesto di il suo processo additivo la pittura aggiunge pigmento a una tela bianca la fotografia è un processo sottrattivo è un processo sottrattivo della realtà è un processo sottrattivo fisicamente quello che avviene nella chimica del processo e sono immagini secondo me per nulla astratte adesso la butto lì la butto lì e poi fatene quello che volete sono le ultime immagini del Novecento queste qua le ultime fotografie vere del Novecento quando la fotografia interrogando se stessa ha creato un'immagine di se stessa queste sono pure forme del linguaggio fotografico quello che vedete sono luce tempo e processo luce la luce c'è per quanto tempo durante il caricamento della macchina la pellicola viene esposta non intenzionalmente alla luce sono quei secondi in cui il fotografo carica poi chiude e una volta caricato la macchina avanzato da qui in poi da qui in poi potrà fare 36 fotografie e qui mi sono fermato prima della prima foto se vi interessa vedere queste cose da marzo a giugno saranno esposte sapete casa Boschi di Stefano Milano è una casa museo del comune di Milano in via Giorgio e Iann magari io mando l'invito a Roberto che lo diffonde se volete mi hanno chiesto di partecipare a una mostra assieme a un pittore astratto italiano che si chiama Valentino Vago qualcuno di voi forse lo conosce perché hanno sentito che c'era un'assonanza tra questo lavoro e la sua pittura in realtà c'è c'è è vero formalmente c'è la differenza è che lui parte da una tela bianca e ci aggiunge pigmento finché l'opera è finita e il bianco non c'è quasi più perché è coperto da pigmento noi agiamo esattamente nel modo opposto dico noi tutti colori che lavorano o lavoravano col processo fotografico analogico e comunque è ancora vero perché c'è questo discorso in quadratura la questione è che qui le immagini non sono ottiche non sono fotografie di qualcosa quindi sono un processo come si dice in camera perché avviene dentro nella camera oscura portatile che è la macchina fotografica in cui la pellicola non intenzionalmente prende luce durante il processo di caricamento e praticamente genera già la sua prima immagine le immagini sono irripetibili sono uniche perché due immagini uguali non esistono perché mai una pellicola viene esposta durante il caricamento in queste condizioni di luce mai non succede mai in più come mi ha spiegato i laboratori quelli che hanno le tanniche verticali quel pezzetto di pellicola entra e esce dalla 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 vasca per cui non viene mai non viene mai sviluppato in maniera corretta tanto poi verrà tagliata e buttata e terzo un po' di sciampianamente queste sono delle appropriazioni non sono mie queste fotografie mi appropio di questi materiali grezzi e lì carico di valore simbolico dicendo che sono delle soglie eccola qua la soglie tra la luce e il buio è veramente una soglia un punto di passaggio qui non c'è informazione infatti qui si potrà fotografare e quindi qui c'è già tutta l'informazione qui è già successo tutto tra il tutto che è già successo e ciò che ci attende c'è questa linea qua che separa perfettamente e unisce e altro non è che un fotogramma la vedete sta robina qua sono i peletti di quella striscia di velluto che impedisce la luce di entrare dentro nella cassettina terzo lavoro più recente sono gli li ho chiamati soglie a specchio sono fotografie anche esse analogiche che io realizzavo con esposizione lunghissima con la macchina tenuta in mano cioè veramente ho ridotto la mia fotografia allo stato primitivo nel senso che prendo la macchina schiaccio il bottone su T e tengo aperto l'otturatore a mano libera in questo caso era dentro in una stanza oscurata dove c'è una videoproiezione e ho puntato non lo so per un minuto un minuto e mezzo le esposizioni tanto non importa vengono sempre oltre a una certa soglia vengono sempre le esposizioni lunghe non esiste più sovra sottoesposto vengono sempre cioè la pellicola comunque registra la luce e la gente che passava che entrava che usciva non è stata registrata perché come in un daguerotipo non ha il tempo di essere la figura non viene impressionata la pellicola perché non è riuscita a impressionare queste figure quello che si impressiona è l'apertura della tenda e quindi la luce che entra queste stampe queste immagini le stampo digitalmente su superfici specchianti e si presentano in questo modo qua cioè il paradosso di questo vedete che qua c'è il bianco allora quando stampate con quattro inchiostre insomma in fotografia io lo spiego sta cosa ma la gente non riesce a capirla veramente la capiscono solo i fotografi sta cosa il bianco in fotografia non esiste è la carta è il supporto è il supporto il bianco perché qui non c'è inchiostro ecco allora stampando su uno specchio quello che succede è che in quella zona e questo mi piace molto in cui non c'è informazione in fotografia succede tutto c'è il mondo che gli sta dall'altra parte del lavoro ci siamo noi che osserviamo the beholder beholder colui che guarda l'essere che guarda e un'altra cosa che mi incuriosisce che in questi lavori è che da punti di vista diversi l'osservazione produce opere diverse mentre di solito guardando una cosa da punti di vista diversi vediamo sempre quella la possiamo pensare diversamente ma non vedere diversamente qui invece fisicamente si vede diversamente perché intercetta altri elementi dello spazio nel quale si immerge quindi il lavoro vive nello spazio ecco terzo quarto è il passaggio verso l'installazione questa è un'immagine che ho realizzato sempre con questa tecnica puntando l'otturatore aperto verso un proiettore che ha catturato un numero altissimo di fotogrammi non so quanti perché non c'è nessun controllo né io vedo quello che cioè la mia retina non vede quello che vede la pellicola e questa immagine mi incuriosi molto perché mi perché la lessi come una figura ascendente quasi piramidale con questa luce un po' mistica la insomma mi era piaciuta molto questa fotografia poi quando mi hanno invitato in biennale nel 2009 nel 2009 ho realizzato no scusate ho realizzato questa cosa qua dove è finita questa volevo mostrarvela non c'è più che è strano eccola qua qua ho realizzato questa stampona gigantesca qua è una stampa su tela sono cinque teli cuciti assieme l'avevo fatto realizzare e non hanno fatto un buon lavoro e poi l'ho fatta rifare da uno scenografo della scala perché loro usano questi grandi scenari e adesso piuttosto che farli dipingere a mano tendono a farli fare attraverso stampe digitali ed essendo lo spazio che ho scelto che mi è stato affidato molto ampio perché sono le corderie le corderie dell'arsenale sono le stanze in cui la Repubblica di Venezia costruiva le corde e questa è la tese delle vergini sì tese delle vergini perché facevano le vele qua dentro quindi avevano bisogno di una stanza grandissima e allora per sfidare questo spazio ho dovuto portare a queste dimensioni ciclopiche l'immagine beh ciclopiche mica tanto perché quelle sulle pareti delle facciate delle case sono dei palazzi sono anche più grandi di così non le vediamo più ma sono alte piani e piani di palazzi quelle immagini però questo è molto grande per uno spazio chiuso e c'era anche una componente acustica e quello che mi ha molto colpito è che mi è stato riferito che molti visitatori vedevano una roba del tutto diversa dalla mia al che ho chiesto cosa e loro mi hanno detto che gli sembrava l'immagine di un tunnel e sta cosa mi ha preso molto perché quando ho sentito il tunnel l'ho visto ho capito questa percezione dell'immagine di profondità quindi è un'immagine concave non convessa e sì e questo mi ha interessato per rispondere alla domanda di Alberto prima loro ci hanno visto una cosa completamente diversa dalla mia intenzione ecco e questo lo trovo importante cioè una volta che la metti lì la cosa vive nell'arena del mondo non è che sei lì con il guinzaglio che dici no perché ho voluto dire questo e questo che dovete vedere no uno vede quello che pensa e se tu pensi a un tunnel vedi un tunnel ecco questo è stato il passaggio verso la installazione no ops scusate adesso vado avanti così allora questo è stato il primo lavoro che ho realizzato nella notte dei tempi il 1987 in uno spazio pubblico all'aperto non avevo mai fatto niente di simile non avevo fatto mai niente di simile nel senso che sentivo l'urgenza non più di fotografare i luoghi ma di costruirli in qualche maniera e questo questo workshop è stato anche il primo caso del mio insegnamento nel quale tra l'altro ho conosciuto un vostro associato che è un mio carissimo come oltre a essere amico di cui non faccio il nome ma se c'è gli risuonerà dentro lui mi è stato assistente in questa follia pura nel senso nel senso che il comune di Civitella D'Agliano provincia di Viterbo alla confluenza tra Umbria Lazio e Toscana mi ha messo a disposizione degli strumenti abbiamo ordinato della carta fotografica io ho fotografato un calanco i calanchi sono queste cose qua vedete sono le aree di dislodamento dove praticamente siccome manca la vegetazione lì frana tutto è un terreno un terreno non lo so che terreno sia forse argilloso comunque è un terreno poco solido e frana e queste frane se tu non le fotografi in bianco e nero diventano delle immagini bizzarre molto astratte allora io non ho fotografato uno l'abbiamo sviluppato dentro delle vasche da bagno questa è fotografia analogica immaginate sono stamponi che ne so di tre metri per uno sviluppate con le mani dentro agli sviluppi poi fissaggio e tutto poi pezzo per pezzo portate in parete montate sul muro e poi ritagliate col cutter per riuscire a ricostruire la struttura ordinativa del muro perché ci tenevo che il muro esistesse non era solo un trompler questa cosa qua e quindi abbiamo riportato alla luce i 400 blocchi i 400 blocchi di tuffo della porta e l'ho chiamato grande muro occidentale questo lavoro perché al tramonto diventava uno specchio della luce era una cosa fenomenale la vista che vedete voi al tramonto ma in certe ore del giorno il sole ci picchiava sopra la carta era lucida e rifletteva ed è ed è sostanzialmente un oggetto astratto dentro alla è un architetto è un frammento in bianco e nero di un'archipettura è un magnifico villaggio posato su un colle lì nel basso Lazio e guardando indietro la cosa che dicevamo all'inizio mi colpisce il fatto che ancora una volta mi sono misurato ma non lo sapevo quando l'ho fatto non è che ho deciso di farlo è uno spazio è un luogo di transizione è una porta è un luogo che unisce e collega un interno un esterno e l'altro aspetto molto interessante è stato vedere come reagiva la popolazione locale perché essendo la porta vecchia della città vecchia poi giù c'è anche la città nuova le persone anche anziane soprattutto che ci sono sempre passate tutta la vita alcune di esse alcune di esse sono fermate a guardare cosa fosse questa cosa qui e di notte era questo l'aspetto della cosa e hanno guardato come la loro la loro il loro pezzo la loro terra con altri occhi per la prima volta questo per me è stato importante cioè sentire questo questo esserci di fronte non solo usarlo strumentalmente per andare a casa ma questa è solo una speranza che possa diventare un luogo così di contemplazione e di riflessione poi il lavoro ha avuto delle vicissitudini perché il comune si era impegnato a mantenerlo ma non è successo è stato subito vandalizzato ne hanno portato via dei pezzi e poi il sole ha fatto il resto era agganciato col silicone la carta fotografica il silicone è rimasto sul muro poi l'hanno rimosso dopo però la fotografia non c'è dopo pochi mesi era veramente svanita comunque era ovviamente nell'ipotesi del lavoro che svanisse perché si sapeva che la carta fotografica è esposta questo è uno dei paradossi assurdi della fotografia cioè la luce che ci permette di realizzare la nostra fotografia è la stessa che distrugge l'immagine che si conserva esattamente come si conservano i cadaveri al buio al freddo e con l'umidità costante e questa è una cosa su cui riflette il rapporto tra fotografia e morte e Roland Barclough fa benissimo questo parlando della sua mamma parla proprio di questa cosa qua ecco questo è il muro prima prima dell'inizio questo era il muro che ho visto ovviamente non avevo nella testa quell'immagine lì però l'immagine sono andato a cercarla e ho pensato che eccolo qua il calanco scusate il calanco in bianco e nero è qua non è quello un altro comunque è per dirvi cosa sembra poi loro hanno rimosso i palli della luce che tanto non servivano e ci hanno messo a disposizione il ponteggio e con un vostro bravissimo associato di cui non faccio il nome ci abbiamo speso le notti e abbiamo perso le impronte digitali per alcuni mesi perché il silicone è stato un disastro siccome si bucavano i guanti abbiamo veramente abbiamo perso abbiamo perso l'impronta digitale ai polpastrelli ci sono voluti mesi perché ritornassero erano limitati lisce completamente lisce le ditta questo me lo ricordo ecco poi l'ultimo lavoro che vi mostro è questo l'ho realizzato recentemente qui a New York all'incrocio tra la 122esima e il Broadway e la JTS Jewish Theological Seminary hanno invitato una serie di artisti a partecipare a realizzare dei lavori specific cioè specificamente concepiti per il luogo io l'ho visitato con grande interesse ho colto due aspetti della cultura ebraica che mi stanno molto a cuore una è l'immagine mistica dell'albero della vita l'immagine biblica dell'albero della vita e l'altro è quello del libro perché è una tradizione prima orale poi scritta che si basa fondamentalmente sullo scritto di un unico testo la Torah e questo testo ha dato vita a un numero incredibilmente alto di interpretazione di studenti di studiosi e questo edificio contiene una delle biblioteche più importanti al mondo di studi biblici e l'ho visitato ho fotografato la biblioteca e ho fotografato fuori dalla finestra biblioteca le ombre degli alberi adiacenti non li vedete sono sul cortile interno e alla fine ho realizzato sto progetto e ancora una volta guarda caso l'ho realizzato in un luogo di transizione nella hall d'ingresso quindi questa pellicola fotografica è stata applicata in maniera non invasiva sui vetri e sulle porte esterne che vedete qua ovviamente l'ho lavorato molto all'albero però sono partito veramente dall'ombra dalla proiezione dell'ombra dell'albero sul muro è stato applicato sulle quattro porte a vetri e sulle vetrate superiori poi entrando dentro vedete qua le maniglie d'ottone poi dietro c'è un'altra serie di porte a vetro e tra le due porte c'è uno spazio infatti l'installazione l'ho intitolata double doors doppie porte perché la porta è un elemento che mi che mi cattura molto e il fatto che fossero doppie mi ha fatto vivere questo stato in between tra l'una e l'altro quindi le seconde pellicole fotografiche sono state applicate sul vetro interno e sono prospettiche perché le fotografie sono prospettiche poi le accentuate naturalmente in post produzione sono negative perché funzionava meglio il negativo del positivo sono meno letterali e quindi sono state applicate lì così per entrare dentro nel college uno deve aprire deve entrare nel lavoro e deve letteralmente spingere la maniglia che gli permette di entrare dentro e allora ho pensato che fosse bello che se uno entrava in un luogo di studio c'entrasse anche simbolicamente perché lo studio implica la lettura di questi testi testi sacri testi della tradizione e così via e questa è la vista invece di giorno dall'interno verso l'esterno qua ci sono i tornelli ho avuto uno stop durante la fase del progetto che prima sentivo che mi stava per usare un eufemismo castrando perché l'avevo progettato in un altro modo poi l'ho dovuto accettare ho dovuto accettare i limiti della committenza nel suo dire e questo invece ha aggiunto forza al lavoro perché ha aumentato le prospettive cioè il problema qual era? C'era stato da poco l'attentato a Parigi al Bataclan vi ricordate no? Questa cosa orrenda e quindi tutte le istituzioni ebraiche soprattutto si sentivano anche sotto attacco perché c'erano questi attacchi questi atti terroristici in giro per il mondo e allora avevano rafforzato le misure di sicurezza e mi hanno spiegato che la guardiania dall'interno non riusciva a vedere in tempo chi entrava dentro e questo è stato tombale mi hanno chiesto se le parti senza immagini fossero trasparenti o opalescenti e ho detto saranno trasparenti e di creare un'area sufficientemente ampia perché chi entrava e usciva scusate perché chi entrava fosse vista dai guardiani prima dell'ingresso e allora ho creato questo vuoto qui praticamente ho concentrato le aree prospettiche sul lato sinistro e qui a destra le ho molto molto fugate perché questa zona rimanesse libera e la gente effettivamente entrando non capendo all'inizio poi chi entrava tutti i giorni lo sapeva tendeva a entrare proprio di qui dove lo aspettava il guardiano con la pistola al fianco che controllava il documento è quello che si fa nei luoghi naturalmente dove vengono controllati i documenti però ancora una volta ho toccato con mano una cosa che cerco di dire anche agli studenti che il fatto è che i limiti non solo li dobbiamo accettare ma possono dare molto forza al nostro lavoro perché quello che sappiamo di non poter fare rafforza il potenziale di ciò che possiamo fare e alla fine se ci pensate inquadrando nel mirino fotografico viviamo quotidianamente la stessa esperienza ci costringiamo a non vedere fuori per guardare dentro e questa piccola cosa diventa tutto ciò che siamo in grado di comunicare al mondo ecco questa è la fine della presentazione così avete visto i due lati del mio lavoro c'è quello fotografico puro e quello contaminato dallo spazio me le avevo detto che era una persona particolare che è una persona particolare Silvio dopo ti mando un po' di complimenti che sono comparsi in chat io vi mando volentieri la bibliografia perché penso che siano libri belli importanti e molti di questi la parte di saggistica riguarda proprio gente che si è interrogato sul linguaggio proprio nella cinematografia nella pittura nella scrittura nell'arte della pittura di icone per esempio in fotografia c'è questo libro fondamentale che tra l'altro non è mai stato tradotto in inglese di Franco Vaccari fotografia inconscio tecnologico che è un testo molto importante dove Vaccari interroga la fotografia da un punto di vista interno e propri meccanismi parla di un inconscio tecnologico quando io vi dico che noi siamo parlati dal linguaggio sono un po' figlio suo nella riflessione perché noi parliamo un linguaggio ma possiamo comunicare solo attraverso i meccanismi di quel linguaggio non in un altro non in un altro e quindi c'è questo doppio movimento tra parlare e essere parlati il dire ed essere detti bene bene grazie tantissimo di solito verso la fine apriamo i microfoni e ci salutiamo e un collega ha detto adesso apriamo i microfoni e applaudiamo per alcune ore no dai se ci sono cose qui tenete che vogliamo dire volentieri cioè adesso facciamola vediamola semplice la roba cioè io sono qua sono in ballo e ballo nel senso che mi piace cioè mi metto in gioco queste cose qua ballo e ballo vorrei fare una domanda per gentilezza sì certo senta buonasera innanzitutto buonasera per i lavori le chiedo se c'è qualche suo libro con diciamo che riguarda un po' anche la lezione di oggi insomma io l'ho trovata stupenda no direttamente no perché io sono anni che voglio scrivere e non lo faccio mai per più motivi uno dei motivi è che talmente in divenire la cioè un'esperienza talmente in divenire che poi se comincio a scrivere mi sembra di fossilizzare veramente le cose però al tempo stesso vorrei che queste idee da qualche parte rimanessero quindi è un problema che non ho risolto però sono stati pubblicati tre libri più o meno che raccolgono le mie idee ma sono libri sul lavoro e comunque posso mandare la bibliografia a Roberto che ve la manda uno si intitola Light Specific fu pubblicato nel 95 quando feci l'intervento al Palazzo delle Stelline a Milano dove rifletto su queste questioni del linguaggio tra il suo lavoro il secondo si intitola Fotografie e video di Silvio Volce è stato pubblicato a Galleria Gottardo nel 96 a Lugano che si trova fu pubblicato da Contrasto il terzo è più recente è stato pubblicato nel 2011 da Silvana Editoriale in occasione della mostra al PAC e si intitola Sulla Soglia non a caso su questo luogo Sulla Soglia e lì ci sono sia i miei testi che quelli dei curatori dei critici che mi interessa analizzare e riflettere il lavoro e la mia normalmente è una riflessione a posteriore cioè non mi considero assolutamente un teorico no è un retro pensiero che viene dall'osservazione di ciò che faccio in questo senso mi muovo davvero attraverso intuizioni anche istantanee quando catturo le cose e le porto dentro magari rimango lì per anni e poi quando riesco a sostenerle queste immagini le porto fuori e quindi le cose che vi ho detto più o meno sono nate così da un processo diciamo a posteriore di riflessione mi viene un'idea vista l'ora e visto il desiderio che tutti avremmo di sentirti parlare ancora aggiornerei la seduta cioè se sei d'accordo Silvio potremmo ipotizzare una nuova tua lezione fra qualche tempo un paio di mesi due o tre mesi nella quale lo spunto per parlare per porre domande per smuovere siano immagini opere che gli stessi soci hanno preventivamente mandato va bene rovesciamo rovesciamo la questione dai va benissimo una sorta di esposizione da parte dei colleghi che lo vorranno fare e ti commento dal vivo da parte tua volentieri va bene fino a quando resti a New York io torno il 3 di maggio 3 di maggio va bene comunque non c'è bisogno di farlo in presenza no? no si può fare come stiamo facendo adesso quindi tu a Milano lo fai in aula o lo fai via zoom? no lo farei via zoom lo faremo va bene dai è più comodo per tutti poi puoi registrarlo tutto quanto va bene stupendo va bene grazie davvero grazie togliamo i microfoni grazie grazie ciao a tutti grazie saluti grazie grazie salutami Lazzon grazie le sue ombre grazie molto bello arrivederci grazie mille grazie ciao ho fatto molto piacere grazie 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 Grazie.